Stadio Olimpico di Elea, 44esimo minuto, l'essere zero e il non essere zero, la palla è a centro campo, Parmelide si smarca, avanza, avanza, incontrollato, ancora, a tre quarti, avanza, 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 tiro, rete, rete, ha segnato l'essere all'ultimo minuto, clavoroso a Elea, l'essere passa in vantaggio all'ultimo minuto, per il non essere, è finita! Stadio Olimpico